Benvenuti all'Accademia Defensiva di Anos. Passo per passo, vi renderò i defensori perfetti. Lezione numero uno, il zacle perfetto. Per fare il zacle perfetto, devi capire il tuo visario. La cosa importante è usare il fisico. Concentrazione, forza e coraggio. E vinci un contrasto aereo. La difensa è un muro davanti alla porta. Bisogna sempre provare a anticipare l'avversario. Grazie per aver visto l'Accademia Defensiva di Anos. Grazie. Grazie.